Sfortunatamente abbiamo avuto un crollo parziale un piccolo tratto 5 metri di mura urbiche sia nel municipio di San Giorgio nel castello non ci sono problemi strutturali e quelli che sono le abitazioni e i cittadini che abitano all'interno del castello infatti non abbiamo disposto nessuna evacuazione abbiamo chiaramente chiuso transennato per evitare problematiche sia la parte superiore del castello dove si può accedere al punto del crollo e anche la parte sottostante interessata dal crollo quindi via Garibaldi lunedì tempo permettendo inizieranno i primi lavori di messo in sicurezza lavori di sommorgenza che prevederanno la demolizione appunto di una piccola parte di muro che rimasta ancora in piedi e poi si procederà con il ripristino posso già anticipare che la regione Marche con grazie all'assessore Aguzzi ha già fatto sapere di avere stanziato delle risorse per poter intervenire quindi per rimettere ricostruire il muro che oggi non c'è più. La cifra adesso ancora non è ben precisa perché dobbiamo terminare i conteggi però avremo un contributo per il recupero di questo danno che abbiamo avuto a seguito del mantepo di questi giorni poi fondamentalmente in giro per il territorio grossi danni non abbiamo riscontrato è una situazione tranquilla chiaramente facciamo attenzione a tutto quello che è soprattutto l'unica cosa che mi sento di dire di suggerire di continuare sempre a fare la manutenzione del nostro territorio anche i privati con gli agricoltori chiaramente anche l'amministrazione deve fare la sua parte però continuare a fare i fossi tenere politica di toglie pozzetti eccetera perché questo aiuta molto